Lei è uno che litiga in condominio? No, non è che litiga, fanno litigare in condominio. Sulle liti in condominio? Come interessa? Ci siamo tre giorni. A nessuno sta bene niente. Ad esempio a lei cos'è che non sta bene? Tutto. Tesoro, io non abito in condominio. Siamo per uno per cavoli sua. C'è una villa, qui una villetta. Qui ci ne è avuta una tre anni fa, siamo in causa. Me la racconti? No. Io avevo anche il box sotto, e lì c'era il condominio, però io ho preferito venderlo per non avere proprio scocciature. No, il motivo, il motivo. No, no, no. Io sto facendo delle domande sulle liti in condominio, se quindi ci sono... Che ne so io delle liti? No, 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 siamo riappacificati. Che canale è? TV2000, dica la verità, siete in pace. No, giuro, dico la verità. Noi no, nel mio condominio no. Andate tutti d'accordo? Tutti d'accordo, tutti con TV2000, siamo nove, ma uno migliore della... Io sono la peggiore, diciamo. Non litiga con nessuno? No, 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 solo con Mimmo io litigo. Parleremo nelle sedi adatte. Grazie. Ma litiga io e lei. Parleremo nelle sedi adatte. Lei vive in un condominio? Troppo sì, sto vivendo in un condominio. Perché purtroppo? Di che cosa si lamenta? Di tutto, io sto al pian terreno. Io meno male sto all'ultimo piano. Di sotto buttano tutto. Parte litigare voi due in condominio, litigate. Io non ci vado, non ci sono mai andata. Fammo le cose come dice l'amministratore e basta. Lei è una pacifica. Con i cani devo stare attento a trovare addirittura con un osso in bocca. No, 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 no. No, no, che cosa no? Noi stiamo a casa nostra, ognuno fa i affari. Allora, dove dici che non ci vai? Sì, anni fa c'è stata una signora che adesso è morta, aveva 13 gatti. Simpatico. Eh, voglia. Grazie a tutti.